La cosa bella, quando tu sei poi famoso, noi avremo questo video e diremo, l'abbiamo conosciuto... L'abbiamo allevato voi! No, più che allevato no! No, più che allevato no! Prova a seguire un certo tipo di atteggiamento mentale, che se il talento ce l'hai puoi raggiungere il tuo obiettivo, che non puoi realizzare solo nel cassetto. Spostare un po' queste convinzioni e dire, guarda che tutto è possibile!